Sarà inaugurata sabato 10 aprile alle ore 17 e 30 ad Agropoli la sesta casa dell'acqua sarà collocata in località Madonna del Carmine nei pressi della farmacia comunale. Le case dell'acqua sono un servizio di erogazione di acqua pubblica portatile e di quantità naturale o frizzante, refrigerata o a temperatura ambiente tramite apposite strutture, impianti di filtrazione ed erogazione posti in chioschi. Mira a sostituire il consumo di acqua in bottiglia con risparmio sulle spese di trasporto, bottiglie di plastica e costi per i consumatori finali. Ad Agropoli la rete di case dell'acqua si sta ampiamente diffondendo. Ci sono già installazioni in via Taverne, nei pressi del Pala di Concilio, in località Moio, in piazza Lungomare San Marco, in piazza Gallo, località Fuonti, piazza Acone e in piazza San Severino nel centro storico. Una scelta economica per soli 5 centesimi al litro e Amica dell'ambiente seguiranno a breve, ha detto il sindaco della città di Agropoli, altre installazioni al porto e in località Mattine.